Osservo con rispetto le scelte del Comune di Milano, non fatemi commentare il Comune di Milano, sono un autonomista, quindi rispetto quello che il Comune di Milano di Torino, di Brescia, di Napoli, di Palermo fanno. Per quello che riguarda invece la valorizzazione di FS non ho nessun progetto sul tavolo, non c'è nessun progetto di valorizzazione, di privatizzazione, di spezzettamento sul tavolo del Ministro che poi dovrà decidere. Se mi arriverà qualche proposta la leggerò, sicuramente non accetterei nessuna svendita per coprire parti di debito, se ci fosse da parte di qualche privato la voglia di investire per rinnovare, aggiornare, modernizzare la flotta potrei ascoltare. Sì, però stiamo parlando di qualcosa che Milan vince l'Europa League, non lo so, spero, però ad oggi non è abbastanza ambizioso come progetto, quindi se mi arriverà una proposta sul tavolo la leggerò, attualmente non ho nessuna proposta sul tavolo.